Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti i carissimi telespettatori di FanoTV questa è la rassegna stampa di oggi, lunedì 4 gennaio 2016 e siamo qui come sempre in diretta per sfogliare i giornali lo faremo tra un istante, abbiamo poche pagine questa mattina andiamo solo perché è lunedì e quindi c'è lo sport tra l'altro ancora per molti versi in festa, in ferie allora vediamo il santo di oggi, oggi è la beata Angela da Foligno vale la pena ricordare chi era questa beata Angela da Foligno nacque a Foligno nel 1248 sposa e madre, nel 1285 perdette in pochi mesi madre, marito e figli seguì un periodo di crisi dalla quale uscì con la ferma determinazione di seguire l'esempio di San Francesco e così vendette tutte le sue proprietà distribuì i beni ai poveri e fece professione nel terzo ordine francescano il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.41 allora il tempo per oggi, avremo cielo nuvoloso molto nuvoloso con qualche locale temporanea schiarita verso sera precipitazioni sparse di debole intensità in particolare tra la mattinata e le ore pomeridiane il limite delle nevicate è in risalita fino a 1600-1700 metri le temperature sono in diminuzione nei valori minimi i venti sono deboli da meridione il mare sarà mosso per domani, martedì 5 di gennaio avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso con copertura in graduale attenuazione nel pomeriggio le precipitazioni saranno sparse di debole intensità in particolare tra la mattinata e le ore pomeridiane le nevicate al di sopra dei 1600-1700 metri le temperature sono in aumento i venti deboli da occidente il mare sarà poco mosso o mosso per i prossimi giorni quale sarà la tendenza? avremo possibile tempo instabile anche se lievemente instabile anche nella giornata dell'epifania seguito da un temporaneo miglioramento dunque la Befana è avvertita, avvisata allora cominciamo dal resto del Carlino vediamo subito la prima pagina che è questa Alessia, anti-stalker Alessia è la deputata pesarese del Partito Democratico Alessia Morani che ha presentato una proposta di legge che prevede cavigliere elettroniche per tenere lontani molestatori recidivi non è una brutta proposta la potrete leggere nei dettagli nel servizio in nazionale sulla pagina nazionale del resto del Carlino di oggi poi spunta il memorandum Faletti che dice diedi l'allarme ma fui licenziato si parla di banca Marche oggi la manifestazione a Iesi emergono del retroscena datati 2007 poi sulle pagine di Fano troverete anche la notizia del piccolo rifugiato quel bambino neonato nato a bordo del gommone che verrà battezzato il giovane divan si chiama così dal vescovo Trasarti sotto il punto nascita a Fano sono già scatenati il sindaco pronto ad uscire da Marche Nord dice a Pesaro regna il silenzio andiamo allora a vedere e cominciamo da Banca Marche manifestazione a Iesi dicevamo la protesta arriva direttamente in filiale dove questa mattina alle 8 e mezzo in corso Matteotti si sono dati appuntamenti ai risparmiatori di Banca Marche che hanno perso i loro soldi per effetto del decreto salva banche e a Iesi arriveranno gli azionisti anche da fuori città o forse perfino fuori regione per il sit-in che si terrà davanti alla filiale della nuova banca Marche organizzato questo sit-in dal comitato vittima del salva banche l'ex dirigente licenziato dopo la cena dei cannelloni riappare e dice nessuno volle ascoltarci poi sul punto nascita unico perché adesso anche non solo ospedale unico si parla anche del punto nascita uno dei due Pesaro Fano deve chiudere adesso non si sa ancora bene quale chiuderà dei due però se dovesse chiudere quello di Fano ovviamente si va a partorire a Pesaro e quindi ieri si è scatenato vedete anche qui lo potete vedere integralmente anche sul nostro sito occhianotizia.it la foto residenti a Fano e nati a Pesaro no grazie questo tanto per farvi capire come cosa sta succedendo anche sui social network si scaldano gli animi anche in vista di un consiglio comunale che è previsto un consiglio comunale sulla sanità è previsto a Fano per il 18 di gennaio il titolo Fano insorge pronti a uscire da Marche Nord il sindaco Seri promette battaglia l'opposizione alza gli scudi la normativa prevede un minimo di 500 parti nelle zone montane e 1000 negli altri territori ma il Santa Croce quello di Fano e il San Salvatore di Pesaro sono sotto i 900 parti quindi sotto i 1000 euro previsti negli altri territori appunto da questa nuova normativa l'imbarazzo dei politici non si sa nulla si vedrà a Pesaro si schermiscono coloro che rivestono ruoli pubblici legati alla sanità come Mila Della Dora che dice quello che ho saputo l'ho letto sui giornali perché ho fatto ha fatto tutto il Presidente della Regione ancora non so dare una mia valutazione invece Nobili dice ero in vacanza Giacchi no ai campanilismi insomma fatto è che qui sulla sanità si sta facendo tanto ma evidentemente come dire poco alla luce del sole faremo di tutto per tutelare il nostro diritto alla salute a Cagli oggi c'è questa nuova assemblea del comitato per salvare il nosocomio perché anche anche gli ospedali quelli che erano aperti fino al 31 di dicembre a Cagli Sassocorvare eccetera non sono più ospedali sono 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 altro mentre sotto potrete leggere sul 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 del carlino un'intervista a Massimo Ciabocchi che è responsabile delle aree interne del Partito Democratico regionale che analizza un po' la situazione e lui dice sull'ospedale unico credo che possa essere utile solo se conterrà delle eccellenze che potrebbero arginare la mobilità passiva verso Romagna e Umbria perché se dovesse essere una mera sostituzione di quelli attuali di Pesaro e Fanno non avrebbe senso e la domanda di Pisciolini è il giornalista dove lo farebbe questo ospedale unico lui risponde a Calmazzo andiamo sul giornale delle Marche il Corriere Adriatico da Fermignano la notizia della morte di un vigile del fuoco di 42 anni che è stato trovato impiccato in casa si chiamava Luigi Ferri aveva 42 anni faceva il vigile del fuoco assegnato al distaccamento di Urbino si è impiccato nella sua abitazione la vittima inutili soccorsi dicevo shock per parenti e amici era inaspettativa per motivi di salute Palazzo Ricci fucina di cultura siamo a Pesaro previsto un investimento di 3 milioni di euro per biblioteca rossignana e residence di artisti sotto addio all'architetto Panella urbanista appassionato ha lasciato segni indelebili in città a Pesaro il ricordo di Ricci e primari i 5 stelle andiamo a Fossombrone sempre sulla sanità i 5 stelle il pacco di Natale della Regione nascono gli ospedali di comunità gestiti da infermieri posti letto trasformati a favore dei privati venerdì ci sarà un incontro con l'onorevole Cecconi dei 5 stelle il consigliere Fabri Marotti del forum dei beni comuni poi sempre sul Corriere Adriatico la pagina di Fano invece tanta gente il commercio si risveglia soddisfatte la portavoce degli esercenti e le associazioni stagnazione per abbigliamento e calzature buone risposte nei settori della ristorazione e dei prodotti tecnologici non c'è l'attesa per i saldi unanime il giudizio favorevole sulla promozione del centro storico in sinergia con il territorio ci portano via il punto nascita nel silenzio del sindaco Serri progetto Fano e Udc allarmati dall'analisi dell'osservatorio pesarese Ceriscioli e i suoi sodali massacrano la sanità si nevica ma non si torna in pista sulla pagina delle marche del Corriere potrete leggere questa mattina un po' la situazione nelle varie località di montagna sparse per la regione nel Macerateese dell'ascolano e anche nel pesarese ancora niente fiocchi sui monti Carpegna Catria e Nerone dove tutto è pronto per iniziare a sciare ieri sul Catria sono caduti appena 5 cm di neve troppo pochi per consentire l'apertura delle piste la neve invece non si è fatta proprio vedere sul Carpegna e sul Nerone contrariamente a ogni previsione comunque tutto è pronto e non resta che attendere il cielo comune siamo sulla pagina del messaggero in evidenza in primo piano in comune a Pesaro si cambia ancora arriva Chiani ai servizi educativi i dirigenti ora salgono a 11 nel 2016 previste 17 assunzioni ma i pensionamenti saranno 80 e poi sempre sul sulla prima pagina sul maltempo esonda il torrente a Ponterio allarme ghiaccio invece in montagna poi sulla pagina giorno e notte del messaggero la Befana anzi le Befane di Urbagna si sfidano nel palio e poi lo sport WL contro siamo al basket WL contro Torino in gioco mezza salvezza questa sera l'Adriatic di Pesaro la Consum Teamvest cerca una vittoria che permetterebbe di staccare la Manital e trovare dunque un po' di serenità a Iesi gli azionisti di Banca delle Marche a Iesi si sfoga l'ira delle vittime oggi manifestazione in Piazza Matteotti dipendiamo l'associazione però si sfila una delle associazioni l'iniziativa viene giudicata inutile poi sui saldi al via i commercianti sono ottimisti i saldi della speranza vengono definiti così le associazioni di categoria dicono fra i denti la parola ripresa ma parlano di un dicembre positivo e confidano in un 15% di più di spesa nel territorio poi la cronaca la cronaca a fondo pagina folle corsa con l'auto rischia di finire nella voragine la voragine di Orciano paura l'altra notte nel centro cittadino di Orciano dove un automobilista è finito con l'auto sul ciglio della voragine di Viale Kennedy l'impatto è stato violentissimo tanto che nell'urto è stata letteralmente travolta la prima fila di transenne metalliche evidentemente era sovrapensiero sovrapensiero mentre per quanto riguarda la situazione del meteo nuvole e pioggia fino alla Befana poi ci sono altre notizie che potrete leggere sul quotidiano romano da Pesaro e provincia anche qui evidenza in evidenza i saldi che partiranno domani anche se in realtà in tanti hanno ricevuto gli sms da parte dei commercianti che avvisavano insomma che questi saldi erano già cominciati soprattutto per la clientela quindi c'è questo doppio via questo doppio start che vabbè c'è esiste fa comodo e va bene punto nascita mentre sotto punto nascita rischio le opposizioni attaccano sindaco e governatore Udc e progetto fanno allarmati per il riordino di Marche Nord ed è tutto la rassegna stampa finisce qui vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo questa sera alle 20 e 30 con occhio alla notizia arrivederci